Ciao, sono Davide e sono uno dei soffiatori di vetro del reparto tubi in Gilardoni. Come sappiamo qui in Gilardoni artigianalità e nuove tecnologie renano sovrane. Insieme a Giovanni, in un precedente Giltalk, abbiamo visto come viene prodotto un tubo a raggi X. Vi lasciamo un link qui in basso. Tutti conosciamo il vetro e sappiamo che lavorandolo ad alte temperature è possibile plasmarlo e realizzarvi di tutto, dagli utensili che servono per la vita di tutti i giorni sino a delle vere piccole opere d'arte. Bene, il vetro Gilardoni si differenzia dal vetro artistico perché è un vetro tecnico, è un vetro con caratteristiche elettriche, di isolamento elettrico ed è privo di piombo e per queste caratteristiche è difficile e risulta molto più difficile lavorarlo. La tradizione è che durante il periodo natalizio realizziamo e disponiamo il nostro presepe fatto col nostro vetro e fatto a mano da noi. L'idea è stata dei miei maestri all'inizio degli anni 80, hanno iniziato a realizzare la natività e poi di anno in anno si sono aggiunti altri pezzi. Uno dei miei pezzi costruiti all'inizio è stata la picorella. A breve consegnerò questa tradizione a Giovanni che è uno dei miei allievi sperando che continui con questa tradizione. Questo presepe cresce ogni anno di più, ti consegno Giovanni questo mio ultimo lavoro. Io ringrazio il mio maestro Davide per questo bellissimo dono e con la mia promessa di portarlo avanti per i prossimi 40 anni. Il mio ultimo dono è stato il puntale dell'albero di Natale costruito con la forma dei tubi a raggi che come sappiamo sono il nostro cuore dei nostri prodotti. Vi saluto con il nostro presepe e auguro delle magnificche feste. Ciao e al prossimo Gil Talk.